Sono Paola, volevo dirti una cosa che mi sono ricordata di Giulio, un paio di anni fa mi aveva parlato di un film di Bettis, Garage Olimpo, mi aveva detto mamma quando è l'occasione guardalo, da questo momento non vedrai più, proprio quel film lì aveva parlato proprio di quello. Le dico che erano dell'esercito. Possono aver mentito, i sovversivi mentono sempre. Erano dell'esercito, dell'esercito! Stai sicura che erano dell'esercito, non alzi la voce. Per favore vuole essere così gentile da ricontrollare la sua lista? No signora, ho già controllato un'infinità di volte, suo marito qui non c'è. Mi sono venuti in mente nuovi particolari. A lui piaceva anche organizzare serate con gli amici e guardare film. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il Signore